andiamo a fare questo discorso a fare un discorso molto profondo e lo sperimento è qui questa opera artistica rappresenta la nostra paura che ci porta via noi non dobbiamo lasciare che questa paura ci porta via nessuno può toccare la nostra vita per capire a che punto noi possiamo stabilire un certo coraggio per armonizzare la paura perché è una paura esistenziale dentro di un punto di partenza ogni punto di partenza è nato la causa e l'effetto del nostro movimento non esiste il destino il destino siamo noi per sconfiggere la paura che dentro di noi la fortuna non esiste la fortuna siamo noi ogni volta che noi attuiamo quella forza spirituale per sconfiggere il male questo piccolo equilibrio per voi ok la nostra paura dobbiamo sempre abbatterla altrimenti ci porta via faccio il test concentrazione mai paura poi l'aiuto come vedete di un braccio con la telecamera posso sbagliare non posso sbagliare perché anche si può sbagliare quando ci crediamo di essere sicuri molto facile molto semplice come io sto facendo per voi